un 8 marzo di fango per giorgia meloni la segretaria del pd ellis clan conclude la sua corata intervista a piazza pulita ospite in studio di corrado formiglia la 7 con un appello alla premier che assomiglia sinistramente a una pugnalata alla schiena bella e buona punto se dovesti vincere in abruzzo che cosa succede a livello nazionale le chiede il conduttore come ultima domanda la sclens vicola da par suo ma guardi innanzitutto serve che gli abruzzesi si riprendano il loro futuro risponde la leader dame dopo qualche attimo di imbarazzo la prima cosa è che bloccheranno l'adesione della regione all'autonomia differenziata ma mi dica che cosa succede la incalza formigli le tensioni ci sono già quello che cambia è che il paese è paralizzato dalle tensioni di questo governo è la supercazzola della sclenna a cui interessa però lanciare l'ultimo sasso contro la meloni punto però mi faccia dire una cosa domani è la giornata internazionale delle donne faccio un appello a georgia meloni perché fa male vedere una presidente donna che si disinteressa alle condizioni di vita delle altre donne e dovrebbe sapere che il lavoro precario colpisce soprattutto le donne quello che lei ha aumentato il primo maggio scorso allora domani se vuole aumentare l'occupazione femminile allora domani approviamo un congedo parentale di cinque mesi pienamente retribuito per entrambi i genitori facciamo questa cosa in sottofondo la firma di libero francesco specchia le ricorda un semplice dato ma è aumentata l'occupazione femminile buona festa della donna a tutte grazie grazie